In quest'ultima settimana sono stati numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco nel Terramano. L'ultimo di rilievo si è registrato nella serata ieri. A dare allarme è stato il proprietario della vettura che ha chiamato i Vigili del Fuoco chiedendo aiuto per recuperare la sua macchina finita in un laghetto artificiale per l'irrigazione. L'auto, una Fiat Panda, è stata rinvenuta all'interno di un piccolo lago del diametro di circa 15 metri e della profondità massima di 2 metri in località Santa Lucia Notaresco. La Panda in precedenza era in sosta nei pressi di un'abitazione distante qualche centinaia di metri dal laghetto e non è stato possibile determinare con certezza come la stessa sia terminata nello specchio d'acqua. Lo stesso proprietario dell'auto, un 69enne del posto, non ha saputo spiegare quanto accaduto. I Vigili del Fuoco l'hanno trainata sulla sponda del laghetto e dopo aver riscontrato la presenza di un finestrino aperto hanno richiesto l'intervento dei sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Ancona che intorno alle 21 sono stati avvicendati dai loro colleghi di Roseto degli Abruzzi. I Vigili per questa operazione hanno usato una strumentazione sonara in dotazione proprio per effettuare le ricerche sui fondali allo scopo di accertare l'assenza di persone all'interno del laghetto. Le ricerche dei sommozzatori proseguite per tutta la notte hanno dato esito negativo circa la presenza di persone all'interno dell'invaso. Pertanto è cessato l'allarme mentre proseguono le indagini dei carabinieri per accertare la dinamica dell'episodio.